Conturbante Viaggi e Turismo è nata per farti sognare in giro per il mondo e darti la possibilità di soddisfare ogni tua esigenza. Domenica debutta contro la Real Laversa il nuovo allenatore della Cavese Emanuele Troise nel darby valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie D girone I. Al Simone Talamberti i metelliani dovranno cercare di vincere in tutti i modi per non perdere più contatti con il primo posto ma soprattutto è richiesto alla squadra un cambio di mentalità soprattutto in questi ultimi tempi la Cavese era stata al di sotto delle sue reali potenzialità non aveva espresso un gioco meraviglioso e col tempo il nuovo allenatore Aquilotto si augura di poterlo introdurre auspicando prestazioni più continue da parte della squadra. Di base Troise ha già annunciato che proporrà in campo tre attaccanti, tre centrocampisti e quattro difensori davanti al portiere poi siccome lo stesso modulo può avere mille sistemi diversi a seconda della situazione qualche giocatore potrà cambiare la propria disposizione in campo. Un ruolo importante potrebbe averlo Tanassi e Kosovan che è utilizzabile a centrocampo o anche in attacco e quindi potrebbe offrire soluzioni alternative al mister soprattutto se starà nelle migliori condizioni per esprimere le sue doti. Pronto al rientro il linea mediana Maiorano che ha scontato al pari dello stesso Kosovan la squalifica ma Troise potrebbe avere problemi di abbondanza in linea mediana quindi lasciare inizialmente fuori qualcuno rispetto ai posti che potranno esserci a centrocampo. Da valutare ancora le condizioni di Cone mentre Altobello potrebbe già essere disponibile al rientro. Tra l'altro una notizia da parte della società cavese giunge anche riguardo alla struttura dello stadio Simonetta Lamberti perché a seguito del completamento dei lavori strutturali e delle procedure di collaudo la commissione provinciale di vigilanza locale di pubblico spettacolo ha dato parere favorevole ad aumentare a 950 posti la capienza della curva sud Catello Mari abitualmente riservata agli ultras del tifo caldo della cavese. Pertanto a partire proprio dalla gara di domenica con la Versa nel rispetto delle normative emanate per il contenimento del covid-19 la capienza resta ridotta al 75 per cento e saranno 712 i posti a disposizione degli ultras. Domenica c'è anche Sant'Agata alla Mezzia Terme partita che avrà inizio alle ore 15 quindi comincerà e finirà mezz'ora più in ritardo di cavese reala Versa e ci sarà anche Cittanova Gelbison che invece sarà disputata alle 14 e 30 come la gara dei bianco-blu. Inutile dire che la cavese sia pure impegnata nel cercare di battere la Versa faccia il tifo per Sant'Agata e Cittanova. Altre di di la cavese non è l'unica società ad aver cambiato l'allenatore della prima squadra hanno infatti cambiato anche a Giarre dove Gaspare Cacciola è stato richiamato al posto di Infantino esonerato e a Trapani dove subentra Massimo Morgia il luogo di Leo Criaco. Ciò significa che anche tali società hanno optato per la cosiddetta scossa. Il Trapani è piantato nella metà classifica destra nonostante avesse aspettative importanti per il campionato e il re che aveva imposto il pareggio alla cavese a Lamberti è addirittura penultimo.